Sarà Natale, il caso di dire, anche al Marina di Pescara questa iniziativa dal 15 al 24 con i mercatini e tanto altro? Sì, sarà Natale anche al Porto Turissimo Marina di Pescara e mi preme ringraziare il mio CDA che ha accolto immediatamente di buon grado la mia proposta. La mia proposta viene dal fatto che in estate abbiamo ormai un programma che si chiama Estatica ed è consolidato ed è conosciuto in tutto Abruzzo, non solo. Quindi ci tenevo ad animare il Porto anche in inverno. Questa sarà una manifestazione che partirà il 15 e finirà il 24 di dicembre. Sarà rivolto soprattutto ai bambini e alle proprie famiglie. Porto Turistico è un valore aggiunto perché è appunto un luogo facile da raggiungere con un ampio e comodo parcheggio. In più abbiamo il nostro padiglione, meglio dire il padiglione della Camera di Commercio di Pescara che è comunque all'interno del Porto Turistico, quindi un ampio padiglione al coperto, chiuso e riscaldato. Cosa chiedere di meglio per l'affluenza dei bambini? Ci sarà appunto la casa di Babbo Natale con il Babbo Natale che attenderà i bambini. Farà loro appunto la classica richiesta di cosa si aspettano come dono per il giorno di Natale. Ci saranno espositori, dolci, dolciumi, prodotti tipici natalizi. Quindi aspettiamo tutte le famiglie al nostro Porto Turistico Marina di Pescara. Grazie.